ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volevo mostrarvi anzi farvi sentire un po di oggetti che scricchiano vi spiego meglio allora i tre oggetti sono questi il primo è una saporetta il secondo è una busta di coton piocche il terzo è una busta di dischetti leva trucco che in realtà io più che per detergere il viso uso per togliermi lo smalto dalle unghie con l'acetone comincio dalla saponetta spero vi piaccia il mio soft spoken lo sto provando per la prima volta e sto cercando anche di avvicinare il microfono e volevo chiedervi se si capisce da dove vengo nel senso che mi hanno sempre detto che non mi si sente ma anche io non sento una particolare cadenza o un particolare accento nella mia voce non credo che nessuno se lo senta su di sé però magari voi lo sentite ecco perché a parte che dalle mie parti non non sia un accento particolare ovviamente però ci sono abituata allora chiacchiera parte questa saponetta vabbè dei provenzali e mi piace molto sia per i suoni prodotti sia per il colore perché è giallo pastello e poi le scritte sulla confezione sono celesti e sono due colori che mi rilassano tantissimo in generale comunque mi rilassano i colori pastello perché mi ricordano le maestre delle elementari dell'asilo non chiedetemi perché però io i vestiti color pastello e quindi in generale i color pastello li associo quindi alla mia infanzia per me è rilassante quindi sono i colori che mi trasmettono pace poi fattore da non trascurare ha un odore veramente buono qua sull'etichetta vi è scritto che c'è della magnolia, del caprifoglio e della lavanda ora io come odore sento semplicemente odore di pulito, di bucato proprio di sapone insomma un tipico sapone con cui mi posso lavare le mani e dopo le mie mani sanno di pulito quindi mi piace molto ed è pronto un odore che mi rilassa quindi in sé questa saponetta mi rilassa tantissimo per i colori per il suono per il suono e per l'odore bene 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 il secondo scricchiolio ti devo far sentire è più un po' più basso forse un po' più e forse anche più gradevole come suono saprei e quello della saponetta è un po' più secco questo non so io direi un po' più basso però non so descrivere molto gli scricchioli degli ozzetti ecco in alcuni è un po' più calzù che un po' più calzù ecco ecco ricordare ecco 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 Spiro che questi rumori vi piazzano come piazzano a me il il Grazie a tutti. Il terzo oggetto è questo, forse è il mio preferito. Non saprei perché, però mi piace un po' di più questo suono. In realtà proprio mi incanta. Grazie. 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 A me questi suoni rilassano veramente tanto. E a volte in casa mi perdo ad ascoltarli. E anche ieri sera mi perdevo e mi è venuto un sonno incredibile, infatti mi sono praticamente addormentata, sono ascoltando questo suono. Grazie. 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 Suono. Un suono carino. E.... Niente. Quindi so vi saluto. e vi chiedo se avete anche qualche richiesta per i prossimi video di iscrivermelo sia per messaggio privato che anche come commento prendetevi sempre cura di voi stessi e ci vediamo al prossimo video un bacio ciao